buonasera a tutti non potete capire la grande gioia la grande emozione di poter ritornare ad emozionare con la mia voce il piano di sopra vista lago venerdì emozioniamoci tutti anni di silenzio anni di assenza di rumore ritornano le luci ritorna la musica ritorna la tua emozione illuminiamo tutto lo facciamo con il cuore lo facciamo per voi lo facciamo per noi lo facciamo per il divertimento signore donne e signori uomini torna single party la voce è quella di alexandra voice i suoni del maestro marco grava dj ci sta si comincia con i suoni illumina tutto la bella vita un ringraziamento ad erica suna jack misterioso cominciamo ciao ciao yes un ringraziamento ad antonio tutto lo staff meravigliose creature la famiglia capechi la famiglia bernasconi vi danno il benvenuto al piano di sopra vista lago single night iniziamo ad emozionarci ragazzi misterioso e carico stasera ragazzi un grazie no grazie no 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 Grazie a tutti.